Entro fine anno, nella zona industriale di Dueville, il primo hub della provincia di Vicenza per l'accoglienza dei profughi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno del prefetto Eugenio Soldà, che in serata ha avvertito il sindaco Giuse Armiletti. Quello che rischia di diventare il primo centro d'accorpamento e smistamento dei disperati che arrivano dai paesi dell'Africa e del Veneto, potrebbe sorgere quindi in un capannone in disuso messo a disposizione del proprietario. I residenti avvicinati al nostro microfono, almeno in apparenza, cercano di mantenersi su per partes alla notizia della creazione del primo hub regionale nel loro paese. Dipende il numero, se è un numero troppo desiderato fa un po' di problemi, un numero basso. Ma la sua preoccupazione si lega a cosa soprattutto? Tranquillità al paese. Visto San Drigo che ne ha molti TV di San Vicino Paestrale. Ma come la vede l'idea che possa essere creato proprio qua a Dueville, questo primo centro di accoglienza? Ma se chi arriva? Non ha problemi. No, no, è. È preoccupato? Assolutamente no. Se si dovesse giungere a un accordo, il centro hub di Dueville sarebbe attivo in un paio di mesi e verrebbe gestito dalla Croce Rossa. La struttura, che dovrà subire lavori di adeguamento e messa in sicurezza, potrà ospitare un centinaio di profughi per periodi brevi, per poi venire distribuiti in altre strutture d'accoglienza. E quello che preoccupa in realtà i residenti è la mancanza di notizie certe. Non si sa quante arrivano, non si sa dove vanno. Quindi prima di prendere delle prese di posizione su questi fatti bisogna conoscerli in realtà. Queste cose improvvise creano disorientamento, però dobbiamo essere molto lucidi e affrontarle con molta pacatezza. E questo è un problema per l'Italia. Dobbiamo essere aperti, certamente senza chiuderci gli occhi e senza non avere la capacità di affrontare con pacatezza e serietà il problema, che è un'emergenza, siamo consapevoli che è un'emergenza. Dobbiamo avere la pacatezza e l'interesse per trovare una soluzione tutti insieme.